Nicoletta Pirotta che fa questa intersezione femminista. Noi abbiamo otto o nove interventi, se siamo in sette, ce la facciamo. Io non faccio di tutto per essere breve, anche perché cominciamo a essere un po' stanchi. Ma io negli interventi di questa mattina ho apprezzato ovviamente il continuo richiamo nel quadro della ricostruzione di un pensiero di alternativa, il continuo richiamo a un femminismo intersezionale. Un femminismo intersezionale che in effetti è il portato di quello che è quella che viene definita la quarta ondata del movimento femminista internazionale rappresentato in Italia e non solo dal movimento di Non Una Di Meno che in effetti ha posto in maniera anche concreta e con delle pratiche concrete la questione di un femminismo intersezionale. Un femminismo intersezionale che significa riconoscere sul piano analitico e pratico l'intreccio tra le diverse forme di sfruttamento, il genere, la classe, la razza, intese come forme storiche che si declinano e si intersecano nei diversi contesti sociali definendo le relazioni di quei contesti ma definendo anche le singole soggettività. Se questa intersezione non viene colta difficilmente si riesce a comprendere la complessità del reale. Ora siccome è continuo il richiamo a questo femminismo intersezionale ci è sembrato utile all'interno delle pubblicazioni di Transform che appunto in qualche modo approfondiscono e danno strumenti anche per comprendere meglio il reale ci è sembrato opportuno aprire una rubrica specifica che si chiama appunto intersezioni femministe e che ha iniziato il suo lavoro nel settembre scorso perché ci sembrava utile approfondire perché dire femminismo intersezionale e dire che ci sono le forme storiche della razza, del genere e della classe così ci sembrava abbastanza superficiale che non consentisse di capire davvero il portato di questo pensiero femminista e allora abbiamo pensato che forse la cosa migliore non era tanto quella di scrivere noi qualcosa sul femminismo intersezionale ma siccome il femminismo intersezionale non nasce con non una di meno ma nasce molto prima in particolare nel femminismo nero in particolare con la Crenshaw che lo pose come uno degli elementi fondanti ci è sembrato il caso di cercare dei testi di fare un lavoro di ricerca cioè cercare dei testi specifici e metterli a disposizione ovviamente con un commento e una presentazione che li inquadrasse dentro il contesto storico nel quale sono nati e dentro le pratiche anche che essi rappresentano. Nell'affrontare questo approfondimento abbiamo tenuto conto di almeno tre nodi. Uno, la dimensione anticapitalista cioè lo sfruttamento di classe che è una dimensione spesso rimossa o sottovalutata dentro il movimento femminista anche dentro il movimento femminista di non una di meno che su questa contraddizione un po' scivola via e quindi abbiamo pensato che invece fosse il caso per dirla con Angela Davis di affermare che il femminismo deve portare alla consapevolezza di quel che il capitalismo è. E quindi abbiamo messo a disposizione una serie di testi, di studi, di ricerche a partire da Angela Davis ma non solo che appunto ponessero la questione anticapitalista dentro un pensiero però femminista e non ci siamo fermati a questo perché abbiamo cercato anche di porre dentro questa lettura anticapitalista un passo ancora in più cioè quel femminismo materialista che individua nella rilettura critica di Marx un elemento fondamentale nel definire il femminismo anticapitalista e qui abbiamo per esempio portato alcuni testi di Nancy Fraser ma di Lidia Cirillo e anche di altre. Questo è il primo nodo. Il secondo nodo è l'importanza del pensiero femminista nero e di quello decoloniale che fra l'altro ultimamente ha subito un'importante evoluzione proprio perché il decolonialismo è diventato un elemento di riflessione importante all'interno anche della sinistra e anche in questo caso abbiamo cercato di spiegare perché il pensiero femminista nero e decoloniale fossero utili nella 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 costruzione di un pensiero di alternativa perché non è sufficiente eh indicare il dominio maschile come archetipo di tutte le forme di oppressione se non si considera il fatto che non tutte le donne vivono questa oppressione nello stesso modo. Le donne nere per esempio lo vivono in maniera molto più molto più forte e e però anche qui abbiamo cercato di eh individuare sicuramente l'origine dello sfruttamento razziale sessuale lavorativo eh definendolo come eh patriarcato suprematista bianco per usare una terminologia di bell'ups però di comprendere come dentro questa ehm come si può dire approccio si muovano o siano intrecciati anche i rapporti di sfruttamento capitalista. Il terzo nodo eh vado via veloce per cui mi scuso se trancio via delle cose che sono più complesse la la necessità di contestare l'eterosessualità come destino e norma per pensare ad un lesbismo nel nostro caso ma a un'omosessualità più in genere capace di colpire al cuore il sistema patriarcale ma non solo perché le discussioni sull'identità di genere sulla sessualità così come quelli sui diritti ehm civili hanno dimostrato di avere una dimensione almeno potenzialmente anticapitalista perché minano quei sistemi di potere elaborati e messi alla prova da anni. Questi quindi i nodi. La caratteristica la la caratteristica di questo lavoro è quella la e quindi della rubrica è quella di definire al contempo la la rubrica femminista e transfeminista. Femminista perché eh la violenza maschile sulle donne continua e è espressione di un dominio specifico che come scrive Lea Melandri deve il suo radicamento e la sua durata alla colonizzazione del pensiero oltre che dei corpi delle donne. Il femminismo nella sua eh intuizione più radicale ha saputo svelare l'interiorizzazione della rappresentazione maschile del mondo da parte delle donne ed è bene quindi che questo svelamento che questa analisi che questa ricerca continui quindi per questo femministi ma al contempo transfeminista perché eh è utile promuovere uno sguardo transfeminista per riconoscere l'importante contributo dell'attivismo LGBTQ plus soprattutto per quanto riguarda la visione transessuale transgender e di messa in discussione delle sessualità come norma per ribadire che oggi usando un termine desueto la lotta di classe non passa solo dalle lotte sindacali per per un reddito o per un salario o per la lotta per il reddito di cittadinanza o di autodeterminazione come il movimento femminista preferisce chiamarmi ma si espande anche nella nella sfera della riproduzione sociale che non riguarda solo il lavoro non pagato delle donne ma anche l'immagine di sé quindi di uomini e donne e del proprio ruolo nel mondo. La terza caratteristica e vado a a concludere è la dimensione politica nel senso che è internazionale nel senso che non vogliamo dare a questo lavoro di ricerca e di approfondimento una una un sapore accademico o astratto eh vogliamo cercare dei abbiamo cercato e vogliamo cercare dei testi e delle autrici che sappiano spiegarci meglio attraverso i loro scritti anche del passato non recenti che sappiano spiegarci meglio quello che sta avvenendo oggi che da una parte vede l'avanzata prepotente di una destra che badate sulle questioni economiche e sociali non fa altro che portare avanti quello che ha portato avanti anche in parte il centro-sinistra nel senso che il governo Meloni è la continuazione sul piano economico e sociale di quello che fu per esempio il governo Draghi ma ma ehm per cioè per mettere bene in in evidenza quanto la restaurazione conservatrice delle 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 destre si giochi soprattutto rispolverando il mito della famiglia patriarcale dei legami di sangue e quindi agendo fortemente su quelli che sono le contraddizioni di genere e di razza eh le donne dentro questo contesto eh pagheranno un prezzo altissimo in termini di libertà di scelta e di autonomia economica perché si sarà rotto scusate uso questo termine che ormai non sopporto più perché si sarà rotto il famoso tetto di cristallo per alcune fra l'altro consentendo a donne non propriamente simpatiche di eh eh cioè di venire avanti penso alla Meloni ma anche alla von der Leyen eh mica soltanto alla alla Meloni ma i pezzi di vetro che sono caduti cadono sulla testa delle donne delle tantissime donne che comunque restano e continueranno a restare sotto quindi come dire conviene anche qui non mitizzare troppo questa rottura del del tetto di cristallo contemporaneamente soffiano venti di guerra sono già state dette quindi non 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 vado non vado oltre anche perché mi pare che sia stato detto benissimo quindi vado via ricordo soltanto che è stata una donna alla von der Leyen appunto a sottolineare che eh la guerra in in Europa non è così eh non è così impossibile e eh proprio l'altro ieri il consiglio europeo ha detto che la guerra in Europa non è imminente non che non ci sarà semplicemente che non è imminente quindi i segni sono funesti l'ultimo aspetto e chiudo è che abbiamo voluto con una certa capardia eh proporre questa intersezione in un contesto misto nel senso cioè cioè laddove si eh si confrontano e si e si eh e e ragionano insieme sia 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 uomini che donne perché consideriamo questa rubrica non un appendice non un'integrazione di quello che è il pensiero eh alto ma consideriamo questa eh cioè questa rubrica una parte essenziale del pensiero che transform vuole eh del pensiero collettivo che transform vuole mettere a disposizione dell'altra e quindi pensiamo che giocare questa rubrica dentro un contesto misto sia un utile strumento per consentire appunto la costruzione di questo pensiero collettivo di alternativa di cui tutti e tutte sentiamo il bisogno. Grazie Nicoletta.